Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il Presidente della Repubblica di Colombia, Juan Manuel Santos Calderón. Nel corso dei cordiali colloqui sono state evocate le buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Repubblica di Colombia, sottolineando il contributo che la Chiesa Cattolica ha dato e continua ad assicurare in favore del progresso umano, sociale e culturale della popolazione. Tra gli argomenti dell'incontro è stato centrale quello del progresso di riconciliazione in corso nel Paese, alla complessità delle trattative che esso comporta e alle prospettive che potrebbe dischiudere il raggiungimento di un accordo di pace. Infine c'è stato uno scambio di vedute sulla situazione politica e sociale regionale, con attenzione agli sforzi volti a promuovere la stabilità dei Paesi dell'area, il loro armonico ed equo sviluppo e la promozione di una cultura della legalità.